buongiorno non mi ricordo mai che giorno è il martedì adesso ve lo dico non posso sempre fare la figura 19 luglio oggi bruttino il tempo però bene perché ieri faceva veramente caldo quindi oggi un po di mattina un po di fresco addirittura da felpina ci sta i ragazzi non si sono ancora alzati perché ieri sera fino a tardi hanno fatto i giochi di luce con le torce frontali e danni ha avuto un'idea geniale pensa te come veramente con la fantasia si sono messi con le torce frontali a farle girare al buio e facevano dei giochi di luce spettacolari veramente grandioso guardo i ragazzi hanno un modo di non attaccarsi alla tele piuttosto che a un videogioco cosa che i nostri comunque fanno e non è che non fanno attenzione lo fanno però quando hanno modo di avere altri stimoli ecco pronta la fantasia che arriva al comando e questo è sempre una cosa bella adesso oggi che facciamo oggi andiamo intanto vi faccio vedere Michela che lava i piatti facciamo vedere anche un po di funzionalità del road car 540 comunque come ti trovi mickey nella cucina del road car 540 qui ci sono i cani ragazzi questo è il piano di sopra non lo facciamo mai vedere dormito bene vabbè come vi dicevo oggi andremo verso ovest ancora passeremo sotto l'urde e alla scoperta di questa val de luz da sun basta ne becco una val da sun e mi racconteremo anche questa giornata poi penso che domani molto probabilmente sconfineremo in spagna adesso guardiamo ma sembra che non ci voglia niente per entrare in spagna né tamponi né green pass né niente quindi faremo la parte di da domani probabilmente faremo la parte di pirenei spagnole per poi chiudere il giro e tornare verso verso il mediterraneo vediamo vediamo come al solito in divenire la giornata buona giornata anche a voi e buon viaggio se siete in strada no 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 No, non vuoi tornare? Non, è un frutto. Allora, siamo arrivati qua in Arrenmarsu, in Val d'Azun. Abbiamo trovato per caso quest'area di loisir, di divertimento, dove c'è di tutto ma sembra che sia tutto gratis, slackline, piscina, campo da calcio, pump track, giochi d'acqua, è libre, guarda, l'assenza alla base de loisir è libre e gratuite, allora la piscina no, The Plane Archer Power, fantastico però, eh. Incredibile, trampolino, andiamo a vedere, pump track, trampolina, area picnic, una mega marmotta gigante per arrampicarsi, campo da tennis gratuito, mega panchina per rilassarsi, e arrivo, dai. Alla parete d'arrampicata, un po' da calcio, 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dove i ragazzi si sono un po' svagati. Siamo arrivati, abbiamo fatto un 5-6 km, siamo arrivati in questo lago di Tec. Bellissimo, a mio spalle c'è il lago, dietro c'è la diga, una stradina abbastanza strettina, però il posto è molto bello. La temperatura, anche se c'è il sole, è bella, si respira, c'è aria. La donna è una meraviglia, veramente. Noi ci siamo sistemati qua, non dormiremo qua, qui è solo per mangiare e qua, eccolo, c'è il lago. Dopo vediamo di andare con i cani e i ragazzi su quella spiaggetta là in fondo, così magari si possono fare un bel bagno, o comunque almeno... E là in fondo, non so se le vedete perché qua con la Osmo non ho lo zoom, ci sono le mucche che si rinfrescano le zampette. Fantastico. Riusciamo di rimanere qui in zona per la notte. Adesso Michela sta tagliando un melone, facciamo due uova strapazzate. Buon appetito! Ecco il nostro Daniel, che si cimenta nello scramble. Grande Dani. Nuovo strapazzato. Sì, per chi non lo capisse, per chi non mastica l'inglese, no, l'americano come noi. Melone, insalata, abbiamo anche del formaggio della zona. Grande Dani. Oh ragazzi, dopo il pranzo davanti al lago, sono andato, ho visto che c'era un percorso che lo costeggiava, però siccome qui ci sono molti divieti per i cani, sono andato a vedere. Ed effettivamente da questa parte non c'è il divieto, quindi c'è un ponte con le cascate meravigliose, che dopo vi farò vedere. Ma grazie a questa, diciamo, avanscoperta, ho trovato questo posto, che non è neanche segnato Spark for Night, quindi lo aggiungerò io, lungo la strada, è vero, adesso vi faccio vedere. Questa è la strada che sale dal lago, qui c'è l'accesso al ponte, sentite il rumore della cascata, e noi abbiamo trovato questo posto, che si infila questa ansa, diciamo, all'interno della strada, anche abbastanza pianeggiante. Mamma, che spettacolo! Guardate qua che roba! Ci siamo messi qui, qui c'è addirittura, poi qualcuno aveva fatto un fuoco, quindi magari stasera lo faremo anche noi. C'è il boschetto, l'ombra. Eh ragazzi, ma dove vi ho installato? Come diceva Abba Antuono in Marrakesh, ma dove ti ho installato? E dopo andiamo a farci un bel giro, adesso sono le due, fa un caldo pauroso, ci rilassiamo un po' e decisamente ci fermiamo qua stanotte, alla grande. Mosca a titanio con l'accento. Musca a titanio con l'accento. Musca a titanio con l'accento. Musca a titanio con l'accento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un giorno di pioggia in questo giro, quindi va bene, ci siamo messi dentro e adesso ci facciamo un bel caffè. Fortunatamente siamo riusciti a mangiare fuori, abbiamo preparato la legna per fare il fuoco, ma niente fuoco direi. Va bene ragazzi. E' su il caffè nella nostra meravigliosa moca rossa. Vi saluto dai Pirenei e ci vediamo domani. Un giorno ci siamo svegliati con la pioggia, o meglio ci siamo svegliati alle 5, Maya è venuta a chiamarmi perché poverina, siete che ieri ho preso freddo, il lago, ho bevuto troppa acqua, non lo so, praticamente aveva... andare in bagno insomma diciamo, quindi è venuta a chiamarmi, tenerissima, così, allora al buio siamo usciti. Poi alle 7 ci siamo risvegliati e niente, piove ancora, piovigina, fa freddo e adesso abbiamo aperto di nuovo la veranda, Maya è fuori sotto la veranda, c'è Ieni invece che un lupo gamato è venuto dentro, che si sta meglio. E basta, adesso abbiamo chiuso il tetto, i ragazzi sono venuti sotto, io e Michele abbiamo fatto colazione prima di loro, così ci muoviamo un po' meglio, adesso la fanno loro. E poi tiriamo su, come si dice, baracche burattini e andiamo, proseguiamo, secondo più o meno l'idea che ci avevamo fatta ieri. E tra l'altro qui l'internet non prende, c'è il 3G ma prende proprio malissimo, quindi non riesco neanche a vedere le previsioni del tempo. Non riesco a capire cosa ne sarà oggi, ma vedremo, adesso siamo comunque, ce la caviamo via, nel senso che non siamo nella condizione ottimale, perché qui chiaramente un camperone mega sarebbe più comodo, però ce la caviamo lo stesso. Serve l'acqua, adesso ve la do, scusate, serve l'acqua, devo andare. Qua c'è un succo di mela, o l'acqua, il succo di mela c'è, non è freddo. Ciao ragazze! Ehm! Ehm! Noa si mangia questo mega muffin alla Nutella, noi lasciamo a Rennes. Aspetta, scusa, ma devo inquadrare la faccia di Noa. Sublime! 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 Addirittura sublime! Noi con questi nuvoloni lasciamo a Rennes, grande è il posto, abbiamo dormito bene, è la pioggia, però ci sta. E andiamo verso il Col du Sul Nord, ok, sei completamente in ombra. Ci siamo fermati un attimo qui ad Rennes a prendere una bulangeria, a prendere del pane, a prendere dei pano cioccolai, questo mega muffin che avete visto, per Noa. Ok, e niente, ora andiamo in direzione ovest e poi a un certo punto scenderemo per sconfinare in Spagna. Adesso le previsioni mi chieda come erano, questa arriva a 200 all'ora. Questa zona dà nuvolo tutto il giorno e poi da domani migliora, ma domani non saremo più qua. Ok, adesso mentre noi ci mangiamo il pane cioccolato vi facciamo vedere un po' di strada, un po' di tornanti. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Eccoci qua! Allora, ripartendo stamattina sotto la piagerellina abbiamo praticamente fatto su e giù da due colli. Non ricordo il nome ma poi Andrea ve lo scrive. Pur le forse, pur lo... Non lo ricordo, fa niente. Dove passa il giro di Francia? Tra l'altro domani passerà il giro di Francia per cui l'abbiamo fatto veloce veloce per non incontrare nessuno ma soprattutto per non rimanere bloccati. C'erano miliardi, centinaia di camper in attesa dei ciclisti. Allora, probabilmente è una via bellissima, una via panoramica bellissima, noi non abbiamo visto nulla. C'era una nebbia, una foschia che ci impediva di vedere qualsiasi cosa, a volte anche la strada. Però va bene, l'abbiamo fatta. Siamo tornati a valle, finalmente abbiamo ritrovato il sole. Ci siamo fermati a far benzina, ci siamo fermati a far rifornimento d'acqua. Un po' di sgamo, nel senso che c'era un'aria sosta per camper con la sbarra, quindi 7 euro per notare elettricità e tutti i servizi. Ma, siccome non volevamo per notare, avere tutti i servizi, ma solo l'acqua e lo scarico, la pompa era vicino alla sbarra, per cui noi abbiamo sfruttato la lunghezza della nostra canna e abbiamo rubato l'acqua. Vabbè, adesso stiamo andando a cercare l'ennesimo laghetto per pranzare e poi probabilmente entrosera sconfineremo in Spagna. Tutto ok, Daniel? Sì, abbiamo anche accarezzato le pecore, io no? È vero. Una zoppa. Ok, ciao. Hola, chico. Ciao ragazzi, ci siamo fermati al lac de Fabregge, siamo entrati negli Alpi Pirenei e ci manca una ventina di minuti per arrivare al confine con la Spagna. Allora, adesso ci siamo fermati qui in un'area sosta perché è ora di pranzo e ci stiamo mangiando il pesto leggero. Daniel aveva voglia di pesto e allora ci siamo presi il pesto. È buono. Ecco, adesso facciamo vedere noi, Dani, che amano il pesto. Ecco qua. Il pesto è italiano, eh? Ci sta. L'abbiamo preso qua. Sì, sì, è italiano, ovviamente. Ecco, il pesto è leggero, sensato e è spisciare. Spisciare, davvero, caccioso. Va bene, grazie. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. La birretta ce l'abbiamo, la siesta, la siesta, la siesta, facciamoci la siesta. la siesta, la siesta, la siesta, la siesta, la siesta. è tutto biologico. E' tuttaisenza, la siesta, la siesta, la siesta, la siesta, la siesta, la siesta, la siesta. la siesta, la siesta, la syesta, è una scatolina di cartone, la siesta. e niente plastica. Fatto, Michi, com'è? Bello. Adesso io. Grazie a tutti. Bellissimo. Questa è una stazione scistica. C'è una tranquillità, una pace. Ci sono dei rapaci. Penso Gipeti di aver letto che volteggiano qui in alto. È veramente una meraviglia. È veramente la natura, una meraviglia. Non si è lì lontanissimo. L'ho fatto su delle mucche. Bello, bello, ragazzi. Danny è venuto su quella bici, ha fatto uno sforzo. Se ogni ora è in discesa, se la gode però. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.